Località turistica e balneare, ma anche uno dei borghi più belli e caratteristici d'Italia, Scilla è stata scelta da molti turisti calabresi e non come meta per trascorrere la giornata di ieri. Complice il bel tempo, caldo ma ventilato, il suggestivo sperone di roccia, noto come in promontorio Scilleo, ha attirato per la giornata del primo maggio diverse tipologie di turisti, dai più adulti, affascinati dal mito greco della ninfa Scilla raccontato da Ovidio, ai giovanissimi attratti dal mare e dalle attrezzatissime spiagge. E naturalmente Scilla si è distinta soprattutto per l'offerta gastronomica riservata ai vacanzieri del primo maggio. I ristoranti tipici infatti hanno coccolato i turisti attraverso piatti a base di pesce spada, duia, formaggi del posto, arricchiti naturalmente dal preziosissimo olio di bergamotto. E poi le bellezze naturali e gli antichi palazzi e chiese del centro storico, lo splendido panorama offerto da Chianalea con le sue case, costruite tutte al ridosso del mare, hanno permesso a Scilla di inaugurare anche per quest'anno l'incompente stagione estiva. Come mai l'ho riuscito a questa location? Veramente abbiamo scelto Favazzina per stare in tranquillità, poi abbiamo deciso di fare due passi a Scilla, visto la giornata è permissiva. Perché è una nostra piccola perla, non ci venivo da tempo, e avevo piacere. Devo dire che oggi abbiamo trascorso una bellissima giornata, veramente, sempre un piacere venirci. Ogni anno? Più o meno sì, veniamo in zona anche perché essendo di Reggio Calabria, è la meta più vicina. Pieno di gente oggi? Pienissimo sì, oggi sì. Peccato che non ci sono i liri qui, strutture pochissime, come vede. Si Scilla perché è un posto caratteristico questa giornata, anzi abbiamo approfittato anche a prendere un po' di sole, a fare il primo bagno. Come mai avete scelto Scilla oggi, il primo maggio? Perché siamo del paese. Ah, siete di Scilla? Sì, sì. Pieno di gente oggi? Eh sì, infatti. Oggi è la festa dei lavoratori, purtroppo siamo disoccupati. Eh infatti? Sì, sì, una bellissima. Sì, sì, disoccupata in cerca di lavoro. Di Scilla? Sì, di Scilla. Pienone oggi? Cosa? C'è un pienone? Sì, 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 di solito è sempre pieno, ma oggi in particolare.